Benvenuti a Lazio News, il vostro punto di riferimento per le ultime notizie sul calcio. Assicuratevi di mettere un mi piace e iscrivervi al canale per restare aggiornati su tutte le novità riguardanti la Lazio. Secondo quanto riportato da Mundo Rubro Negro, i rumors sul mercato della Lazio si stanno intensificando e tra i molti nomi associati al club capitolino c'è quello di Regnier. Il terreno per il centrocampista è stato testato, ma i biancocelesti non sono gli unici a notarlo. Corinthians e Flamengo sono anche interessati a lui. Nonostante l'interesse dei club brasiliani, la volontà di Regnier è quella di rimanere in Europa. Questa preferenza è stata confermata dal suo agente, Giuliano Bertolucci. Ancora giovane, Regnier cerca di consolidare la sua carriera nel continente europeo e affrontare nuove sfide in una delle principali leghe del mondo. E voi tifosi biancocelesti, pensate che la Lazio dovrebbe ingaggiare Regnier? Lasciate la vostra opinione nei commenti, poiché è molto importante per la Lazio.